allora quello che sto scaricando adesso è un aggiornamento per un gioco che chi non conosce questo gioco credo che qualsiasi don vella sopra i 30 anni a questo addirittura il vedete 1981 2006 quindi l'ho scaricato nel 2006 poi questo è stato anche rimasterizzato e vabbè vediamo un po ok vedete la grafica frogger frogger poi le macchine vanno no le macchine vanno sempre più veloci si quasi si sbaglia vedete si è incredibile come sono morto si poteva andare sotto le... ah poi dopo arriva anche con la rana lì nooo praticamente cioè uno una volta finito un livello io lo voglio fare ultra in fretta per farvi vedere per non sprecare troppo troppo video perché poi caricare questi video magari mi pesano tanto lo stesso per fare magari tre minuti di gioco allora giusto per farvi... per rendervi le macchine vanno sempre più veloci eh andando avanti di livello non so se guardate dove mi sono fermato non è che sono morto comunque vabbè voglia l'idea di proseguire non ce n'è quindi questo è un altro gioco uscito quindi nel nel 2006 rimasterizzato risale a troppi anni fa insomma altro titolo ultra giocato in sala giochi altri tempi altra voglia altra testa altro modo di giocare che oggi sarebbe improponibile ciao da Luca CSS ci vediamo probabilmente per forse l'ultimo video di questo arcade retro che voglio inserire in una lista di giochi anni 80 ciao a tutti